Anche una recensione flash, ma sì perché questo Huawei Nova 5T è praticamente un Honor 20 marchiato Huawei C'è quello che troviamo nell'Honor 20 ovvero il tasto qua a destra che è accensione e spegnimento ma è anche sensore pronti digitali velocissimo Ci sono le quattro camere posteriori, 48 megapixel la principale fino alla 2 megapixel macro E poi c'è la Type-C, c'è il display Full HD IPS con il foro, lo vedete lì, ma soprattutto c'è una super batteria Già questo Honor mi era piaciuto molto per quanto riguarda la batteria e questo Huawei va a riconfermare che l'autonomia è proprio uno dei punti forti Guardate ho fatto qua degli screenshot in una giornata veramente molto stress, sempre usato in 4G Sono andato da Bridgestone, ho fatto 32 minuti di tempo di chiamate, 4 ore e 43 minuti di schermo acceso 23% di batteria residua, sì tutto il giorno in giro, aereo, poi sono andato appunto alla pista prove dove ho fatto 260 all'ora Con Stefano Modena in parabolica e ha retto tantissimo la batteria E allora questa sarà una recensione flash proprio perché la recensione completa, andatevela a vedere, è uguale all'Honor 20 anche nelle dimensioni, anche nel peso Non è assolutamente una padella, Kirin 980 che lo fa girare bene, è fluido, è reattivo, non ha nessun tipo di problema da quel punto di vista Vedete qua anche il, diciamo Facebook, nel gestore del pagino Facebook, adesso vi scrivo qualcosa qua nella pubblicazione E vi dico che il feed della vibrazione, no ma sto rifacendo la recensione di questo, è uguale, ripeto andate a vedere quella Ma nel frattempo, nei mesi che sono passati, se non sbaglio è arrivato a giugno questo telefono, luglio Luglio, era luglio, è andato in Grecia con la Kia Soul Elettrica, tra l'altro mi sono arrivate le configurazioni operatore Vedete qua, perché ho messo dentro la scheda di Vodafone, il telefono è migliorato, l'ho trovato più reattivo di questo all'inizio E poi questo l'ho riprovato per riprova e anche lui è diventato fluido come il Nova 5T Vedete Kirin 980, 6GB di RAM, 128GB, patch di settembre 2019, aggiornatissime E un sistema che è veramente molto molto reattivo, solite gesture del gruppo Huawei Honor a questo punto I video avete visto, sì, un po' una pippa ho fatto il video pippone su Motorola, sulla stagnazione del mercato Poco novità e zam, 4 giorni dopo è uscita la news che il 19 ottobre esce il Razor e quindi mi ha sconfessato Ma vabbè, tant'è, per quanto riguarda le foto ribadisco il fatto che le fa molto bene anche i video Avete visto, ci sono stati dei commenti tra l'altro molto positivi sotto il video Motorola Non tanto per quello che ho detto ma proprio per la qualità video Questa Jaguar che abbiamo portato nel fango e poi le foto con poca luce all'ascensore Foto con la camera anteriore in una nuova, vecchia, l'inate, sì vecchia perché non è cambiato nulla E qua le fotocamere dalla grandangolare alla normale e qua zoom interpolato 10x un po' sgrana Ma comunque viene abbastanza bene, insomma buone le foto e quello che mi piace è che è grosso come telefono Ma non è una padella esagerata anche come peso, è veramente molto equilibrato e rispetto a Nord 20 che avevo un po' criticato nel prezzo Perché usciva a 499 euro, adesso mi sembra che sia abbassato a 399 Lui esce praticamente flat allo stesso prezzo, 400 euro perché in realtà su Amazon si trova a 429 ma con anche abbinata un cassa bluetooth E allora mi piace perché è un telefono abbastanza compatto e maneggevole È un telefono che ha un'autonomia veramente bestiale, è anche vero che il sistema di Huawei va a chillare tanto i processi in background Unica cosa su cui si può un po' storcere il naso perché mi sono abituato ai display AMOLED è proprio il display Ve lo faccio vedere, gli angoli visuali comunque sono buoni, anche la visualizzazione sotto tanta luce non è male I neri, i neri non sono proprio nerissimi assoluti come l'OLED Soprattutto quando teniamo la luminosità alta Ma è un telefono che non capisco molto, non capisco il senso della duplicazione O forse sì, in questo momento un po' di stasi di Huawei data dal ban di Trump Non può certificare nuovi telefoni, quelli che sono usciti in Mate 30 Pro senza servizi Google Non lo so, hanno fatto venire un po' un punto di domanda a Huawei, ha senso commercializzarlo, non ha senso commercializzarlo Allora forse un po' dal cassetto c'era questo telefono già certificato ed è uscito sul mercato sotto nome Huawei Ma a parte queste pippe, chi se ne frega delle pippe, veramente un ottimo medio di gamma A un prezzo giusto, corretto, buone foto, ottima batteria, buona velocità L'unica cosa a cui bisogna fare un pochino diciamo la tara è il display Per il resto un ottimo smartphone Ciao